Ecco la tua isola misteriosa. Allora qualcuno ha davvero trovato l'isola? Insieme alla ricerca del nonno. A lui la passione per verne in famiglia. Tra animali giganteschi e città perdute. Un viaggio che è come un romanzo. Dwayne The Rock Johnson. Mi ha castrato il razzo! Michael K. Signore e signori, vi presento... L'isola... misteriosa. Viaggio nell'isola misteriosa. Martedì alle 21. Sul 20.